Ci spostiamo a Torino e andiamo a raccontare anche quest'anno la Keep Clean and Run, l'iniziativa che coinvolge diverse associazioni denti e al centro vede Roberto Cavallo. Quest'anno insomma ho l'impressione che farà particolarmente fatica, nel senso che il suo progetto è davvero ambizioso, ma non perdiamo ulteriore tempo e intanto salutiamolo. Eccolo, ciao Roberto Cavallo, come stai? Eccoci, ciao, ciao, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, molto bene perché sono appena partito, ho fatto solo un chilometro, quindi sto benissimo. Esatto, sì sì sì, solo un chilometro di tantissimi, tantissimi che ti sei, come dire, proposto di fare. Giusto, insomma, lo so che ce l'hai spiegato tantissime volte, ma magari i nostri ascoltatori in questo momento non hanno tutti bene idea di che cosa stiamo parlando. Che cos'è la Keep Clean and Run e com'è quest'anno? Keep Clean and Run è la Corsa raccogliendo i rifiuti, nata dieci anni fa, siamo infatti alla decima edizione, e quest'anno abbiamo deciso per celebrare il compleanno di correre nelle città. Ci siamo detti, come facciamo a correre per dare un po' di risonanza? Beh, facciamo una maratona, facciamo una maratona però al giorno, per sette giorni, per sette città. Quindi mi aspettano questi 42, 195, che in realtà sono sempre qualcosa in più, perché ce ne sono da 42 e mezzo, 43 e 44. Oggi siamo appena partiti da Collegno, davanti alla sede del CDU, e siamo già a Grugliasco, abbiamo fatto già un chilometro e mezzo, stiamo entrando al parco Porporati, dove ci aspettano delle scuole, perché poi la vera bellezza di questa manifestazione non è tanto, non sono tanto le mie gambe, che sono anche bruttine, ma è il fatto che incontriamo un sacco di gente e raccontiamo delle storie. Chiaro, chiaro. E infatti tu usi tanto il plurale mentre parli, non per, insomma, millantare una presenza maggiore di quella che ci sia, ma perché noi li vediamo anche assieme a te, dietro di te, tante persone ti accompagnano di tappa in tappa. Non so se ci sia qualcuno che assieme a te fa tutte quante le maratone che ti sei presenti, sì, eccoli. Oliviero, Oliviero, che i primi anni, i primi anni mi accompagnò per tutta Italia e ho detto senti, il decimo anno complesso devi riaccompagnarmi, quindi farà tutte e sette le maratone, ma lui è un runner vero, non come me, e poi fa un po' modello Forest Gump, oggi abbiamo Fabrizio per esempio, vi presento Fabrizio, Cristian che si è aggiunto, quindi vedi ogni tanto con qualcuno si aggiunge, noi diamo i guanti, i sacchetti, loro ci mettono le gambe e il cuore, insomma. Ecco, a proposito di sacchetti, appunto, la corsa è il lato forse più evidente di tutto questo, ma c'è la raccolta di rifiuti, purtroppo ne state trovando anche da queste parti. Beh sì, guarda, devo dirti che per essere un centro cittadino e dei parchi sono molto ben tenuti e questo a onore dei comuni che stiamo attraversando, Collegno, Grugliasco, adesso andremo a Rivoli, purtroppo però sai, magari vicino alle panchine, un po' perché per disattenzione, un po' perché il vento le trascina, le blocca lì, vicino alle siepi, vicino alle piante si trova sempre qualche cosa, una lattina, una bottiglietta di plastica, un sacchetto, tanti ahimè pacchetti di sigarette e mozziconi, insomma qualcosa lo si trova sempre, ecco, quindi noi corriamo per questo, corriamo per raccogliere e raccontarli soprattutto, cioè raccontare il danno che fanno quando sono abbandonati nell'ambiente. Chiaro, 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 ancora, insomma avremo ancora modo di parlarci, di raccontare questo tuo viaggio nei prossimi giorni, ma voglio ancora dare un accenno ad un'altra iniziativa parallela che tu porti in avanti durante questa corsa, c'è non soltanto uno sguardo sui rifiuti che vengono lasciati in giro, ma anche sulla qualità dell'aria, vero? Andrai anche un'occhiata a come si respira in queste città italiane. Esatto, io corro con un device, nel prossimo collegamento te lo farò vedere dal vivo, adesso è scomodo fartelo vedere, ma è un device elettronico che filtra l'aria, è un naso elettronico che monitora le PM1, 2,5 e 10 e i composti organici volatili, i box e restituisce l'aria che io sto respirando in questo momento, quindi trasmette il dato in diretta allo smartphone, i colleghi della cooperativa Erika vedono in diretta ogni minuto la qualità dell'aria, scaricano un Excel dove poi alla fine ci restituisce com'è e com'era la qualità dell'aria che abbiamo respirato durante la corsa. Bene, bene, e anche perché tra l'altro visto che appunto devi correre, immagino che peggiore sia la qualità, anche magari più affannoso possa essere il tuo respiro mentre ti muovi come di tutte le persone che vivono in questa città. È proprio una delle cose che i ricercatori dell'ENEA che ci seguono come coordinamento scientifico vorranno un po' monitorare, perché io sono monitorato anche con i battiti cardiaci, con l'andamento, quindi possono eventualmente fare una correlazione tra le due cose. Bene, 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 molto interessante insomma anche questo sguardo scientifico, allora vedo che tu non ti fermi mai, hai tanta tanta strada di fronte a te e ti faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo per il proseguimento di questo percorso che è appena appena cominciato, ma come dicevi ci sentiremo ancora nei prossimi giorni, per ora buona buonissima corsa, buona giornata e ci vediamo. Grazie a te Alessio, un saluto anche dai 4Runner, ciao a tutti.